Non ti girare di scatto, potresti ferire qualcuno. Io? Secondo tanto tu non capisci le cose, non è colpa tua, però... Ma che mi fa questo che vuoi qui davanti a tutta la gente? Andrea Giordana e Amanda Lear nell'ultima magica puntata di Viva le donne. Vi divertiranno, vi affascineranno, vi sedurranno con Viva le donne. Non mancate l'ultima straordinaria puntata. Domani alle 20.30 su Rete4. Viva le donne.